I fatti risalgono alla notte tra il 21 e il 22 marzo scorsi. Una telefonata anonima al 112 avvisava che a Francavilla al mare, proprio davanti all'abitazione del segretario generale Cisle, Raffaele Bonanni, all'epoca ancora in carica, si trovava una bomba. L'intervento degli artificieri accertò che si trattava di un ordigno rudimentale, composto da un contenitore di plastica, dei fili e dei bulloni. Nessuna presenza di esplosivo, dunque inoffensivo, si trattava di un falso allarme. A distanza di sette mesi, gli uomini della squadra mobile di Chieti hanno arrestato i colpevoli del falso attentato. Tre persone, due uomini e una donna fermati con l'accusa di minaccia aggravata. L'indagine è partita dalla telefonata. Un carabiniere ha riconosciuto la voce. Si tratta di un 32enne con precedenti per armi. L'uomo è stato messo sotto controllo dalle forze dell'ordine. Da lì si è scoperto che a rendersi complice del falso attentato era anche la moglie di 30 anni. Infine il terzo componente, un 21enne con precedenti che condivideva con lui la passione per le armi. Dalle intercettazioni è emerso che i tre tenevano sotto costante controllo, Bonanni è la sua scorta, segnando ogni spostamento. Inoltre, dalle indagini spicca il razzismo. I due uomini pattugliavano con l'auto di notte alla ricerca di persone di colore alle quali sparare con pistole ad aria compressa. Il più giovane era stato arrestato per aver indotto alla prostituzione una ragazza minorenne, salvata poi dall'intervento della polizia. Il 32enne di Francavilla al mare viveva in prossimità della casa di Raffaele Bonanni. L'abitazione oggi è chiusa. Alcuni vicini raccontano che il segretario generale manchi da qualche giorno. Tutti sanno dove si trova la scorta quando l'uomo fa il ritorno nella casa di Francavilla.